La prima grande emergenza a Sanremo, a Villanobel, quartier generale di Radio Mediaset, questa sera è evacuata per un'allarme bomba, la polizia ha bloccato la strada Aurelia, tutti gli operatori Mediaset sono stati trasferiti in mezzo alla strada e adesso sono in corso le operazioni di ricerca e eventuale bonifica. Grazie